Come uomo, come uomo, no te lo dico, come uomo non mi sono mai, no la stima si, l'ho sempre avuta perché sono un uomo che non ha mai accettato nessun tipo di compromesso, ho fatto sempre il mio lavoro sapendo poi a cosa sarei andati incontro, infatti io vivo anche lunghi anni di inattività perché ho sempre scelto, da quando ho avuto la consapevolezza di ciò che stavo facendo di straordinario e delle mie qualità, ho sempre fatto una scelta della qualità, c'è sempre meno qui in Italia, si pensa soprattutto al botteghino, mi hanno offerto un fiction, che poi farei un fiction, ma di qualità. Però io invece come attore, come uomo anche mi stimo, ma come attore, ecco io sono molto più soddisfatto dell'attore delle piane che non dà l'uomo. Io poi ho sempre vissuto i miei rapporti, le mie storie con grande fatica e con grande sofferenza, ora ormai da circa un anno, finalmente la mia venerante età di 73 anni, è dimostro 72, ho avuto la fortuna di incontrare questa donna che mi sta dando tanto e che finalmente mi sento così appagato nel pianeta amore, ecco questo mi dà una grande gioia. Credo di avere ancora, no sicuro, di avere ancora tante cose da dare, emozioni, ecco allora, mi dico da tempo, io mi auguro, spero, io poi sono un credente, un praticante a mio modo, però dico, ma credo che ce la farò, e chissà magari iniziare quello che io ritengo il terzo capitolo della mia vita di attore di uomo, perché io ho iniziato, perché ero bambino a 12 anni, ed è il primo capitolo, un cinema che faccio, frequentavo, soprattutto divertendomi, non apprezzando ciò che stavo facendo. Poi ho iniziato il secondo capitolo, appunto, con Publio Vale del 76, dove ero già pronto, sapevo, però dovevo poi confrontare, soprattutto con me stesso, di avere delle qualità. E poi, appunto, alla mia età, cerco, spero, insomma, di iniziare a vivere il terzo capitolo della mia vita, che mi dia soddisfazione, sia come uomo, e me ne sta dando, parlo da circa un anno, che sono ovviamente soddisfatto di essere amato e di amare una donna, che io pensavo, cercavo, una bella donna, sicuramente, ma che avesse soprattutto una sua grande personalità, una sua cultura, un suo cervello, una sua... e questo mi... e questo sono riuscito a vivere, vivo con grande amore. E poi spero che si apra anche il capitolo, il terzo capitolo della mia carriera, e ricominciare. Ripeto, come attore ho ancora molto da dare, ma anche come regista, io, credo di essere pronto per affrontare film interessanti. Questo mi auguro.